Qual è il profondo significato di questo solenne atto civile? Cosa significa per un carabiniere adempiere con disciplina ed onore ai doveri del proprio Stato? Oggi prepararsi al meglio delle vostre capacità fisiche e mentali per essere pronti domani ad esercitare un grande, assoluto privilegio. Servire lo Stato, le istituzioni, la giustizia. Con lo sguardo rivolto alla bandiera, gridate all'unisono la vostra dedizione alla patria e all'arma dei carabinieri perché questo impegno solenne possa essere benedetto dal cielo. Darete da oggi tutto voi stessi alla patria, il vostro corpo per agire in difesa del cittadino. La vostra intelligenza, e ne avete tanta, ne avete tanta e lo dimostrate ogni giorno, la vostra intelligenza per prepararvi e metterla al servizio delle istituzioni, e la vostra anima e la vostra coscienza in quanto assinite la patria. Giorno! Giorno! Mi è sempre bella, la repubblica e la nata, la vostra maglia, la vostra legge, e mi attenzione con il civile valore, tutti i doveri del tuo spazio, per la libertà della maglia, e la propria guardia delle libri del cittadino. Giorno! 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 Giorno!